Ai confini della patria, dinanzi alla granitica barriera delle Alpi, nell'incantevole scenario di questa vasta conca circondata da campi di neve, si è svolto il sesto campionato dopolavoristico di marcia su sci per la Coppa del Duce, alla presenza dei duchi di Pistoia. 5.000 dopolavoristi venuti da tutte le province d'Italia hanno partecipato a raduno sui campi delle gare per assistere alla competizione alla quale hanno partecipato 283 pattuglie. Alcune partenze delle squadre dei concorrenti per la serata contesa che si è svolta su 12 chilometri di percorso, tracciato su falsi piani, salite e discese, aggravate da 300 metri di dislivello e che si è conclusa con la vittoria dei dopolavoristi di Parma. Ed ecco come la popolazione di Dobbiaco, nel caratteristico costume locale, ha festosamente partecipato alla superba manifestazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!